Ad accogliere i numerosi clienti a corsi per l'inaugurazione, anche la banda di San Benedetto del Tronto e le maggiorette, che a suon di musica e coreografia hanno ufficialmente accompagnato la tanto attesa riapertura del negozio leader nella vendita delle calzature. Un locale totalmente rinnovato, 500 metri quadrati di esposizione nel nucleo industriale, non distante dal vecchio negozio. Il megastore è stato realizzato grazie al max investimento di 700 mila euro realizzato dalla società Cosmo. Più di mille i curriculum aggiunti nelle mani della direzione, che ha selezionato 14 nuovi dipendenti, traccassieri, venditori e addetti al magazzino. I sei dipendenti, che lavoravano per il Globo prima della chiusura dello scorso gennaio, sono stati riassunti e hanno mantenuto la stessa forma contrattuale. Tre di loro con contratto a termine, restanti tre a tempo indeterminato. Lo store ha totalmente modificato la disposizione della merce, dedicando più spazio all'intimo che adesso un reparto dedicato, e agli accessori sportivi, palloni, sacche da palestra e borsoni. Tra i numerosi visitatori, molti clienti storici, che, testuali parole, non vedevano l'ora che riaprisse il negozio, per la convenienza dei prodotti e il vasto assortimento degli articoli proposti. Una mamma, avvicinandosi a noi, ci ha confessato, sorridendo, di essere entusiasta della riapertura. A due bambini piccoli, e con quello che costano le calzature per l'infanzia, il ritorno del Globo rappresenta una vera e propria boccata d'ossigeno per tutte le famiglie della Valle Peligna. E speriamo che lo sia, anche per l'economia, in forte affano dell'intero comprensorio.